toni accesi di verbi un accesso negato a una festa e forse qualche bicchiere di troppo che di certo non ha aiutato a stemperare l'animosità è sembrata questa la combinazione di cause che nella notte fra sabato e domenica ha visto un 21enne moldavo venire accoltellato due volte la schiena da un coetaneo durante una festa privata degenerata nella violenza l'episodio è avvenuto oltre questo cancello in una casa di campagna in strada dei condotti in una zona rurale non lontana dal quartiere muraglia e dal poligono di tiro ma lontana dai luoghi della movida pesarese il ragazzo non è in pericolo di vita tant'è che si è presentato le tre di notte al pronto soccorso sanguinante ma senza aver ricorso a una chiamata all'ambulanza al pronto soccorso di pesaro gli è stato riscontrato come quei tagli non fossero profondi e non si fossero avvicinati a ledere organi vitali la versione del giovane moldavo ai sanitari è stata quella di essere caduto su alcune imprecisate pietre o ferri appuntiti una versione che non ha convinto i medici che hanno segnalato l'accaduto alla questura interrogato il giovane moldavo ha provato ad attenersi alla versione raccontata ai medici poi la verità è gradatamente venuta a galla ma non del tutto visto che il giovane ha deciso di non sporgere denuncia gli inquirenti indagano sulla ricostruzione di una festa in cui si sono radunati una trentina di giovani fra italiani e stranieri e a questi si sarebbe aggiunto un altro gruppo nel corso della serata con il quale si è accesa una lite che ha portato all'accoltellamento forse il colpevole è un ragazzo di origine campana ma l'ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti che nella notte di sabato sono intervenuti in strada dei condotti ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati le indagini stanno vagliando alcuni testimoni che però hanno saputo fornire solo informazioni frammentarie e nessun nome